Eccoci ragazzi! Siamo stati a vedere la finale di Champions Femminile grazie a YouTube Un spettacolo bellissimo, è stato tutto esaurito Tantissimi tifosi venuti da Lione, tantissimi tifosi venuti da Barcellona Tanti italiani, tante famiglie, quindi un bellissimo spettacolo Il clima è stato bellissimo, calcio femminile è il movimento che sta aumentando sempre di più Siamo contenti di questo, sta crescendo Pensate che ha fatto quasi 56 milioni di visualizzazioni Tra DAZN, il canale di DAZN della UEFA Champions League femminile su YouTube Siamo molto contenti di questo Siamo contenti, infatti il clima è stato bellissimo, come abbiamo già detto Ma ve lo facciamo vedere proprio Eccoci ragazzi, stiamo a vedere la finale di Champions Femminile Torino, bellissimo, Lione-Barcellona C'è un clima caldissimo, a parte che fa 34 gradi Lione-Champions gioca la Juve È a Torino però Lione-Barcellona La Juve anche in qua è stata eliminata però al quarto Al quarto, meglio che agli ottavi Vi portiamo dentro Entriamo Andiamo in campo Andiamo in campo Tu entri? Sì dai, due scatti e due palleggi Grazie Noifferenzia No seinen Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3-1 Lione, o Lione è dietro, è un muro, un muro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.